Federica Francia Uomini e donne, Federica torna da Andrea Zelletta? Il messaggio è chiaro Nelle ultime settimane si è fatta conoscere per la sua bellezza e la sua simpatia durante il suo percorso a Uomini e donne, parliamo di Federica Francia. La corteggiatrice di Andrea Zelletta si è fatta notare oltre che per la sua innegabile bellezza, anche per i suoi modi che hanno conquistato il tronista. I due sembravano proiettati ad un futuro roseo e ad approfondire la conoscenza e magari ad arrivare alla villa, ma non sarà nulla di tutto questo. Andrea ha deciso di eliminare a sorpresa Federica. Ad onor del vero è stata questultima a minacciare di andare via se non ci fosse più stato spazio per lei nelle esterne, il tronista non ha opposto resistenza. La corteggiatrice ha, quindi, abbandonato lo studio di Uomini e donne. Il percorso di Federica a Uomini e donne. Sin dal principio il rapporto tra Federica e Andrea Zelletta sembrava aver preso subito il volo. Le prime due esterne sono state molto emozionanti e sono state caratterizzate da abbracci, carezze e molte attenzioni. I due si sono scambiati anche bollenti baci che avevano fatto sperare alla corteggiatrice di essere la preferita del tronista. Purtroppo per lei ogni qual volta è tornata in studio ha dovuto assistere ai baci di Andrea con le altre corteggiatrici di Uomini e donne. Un atteggiamento che ha provocato la reazione molto forte di Federica che non è rinasta a guardare e ha chiesto un primo confronto al tronista. Questultimo lha addirittura lasciata a casa, preferendo portare in esterna altre corteggiatrici. Una scelta che ha ferito profondamente a bella Federica. Lei ha mostrato un gran carattere andando a chiedere spiegazioni ad Andrea Zeleta e raggiungendolo in palestra. Le sue giustificazioni non lhanno convinta e lei ha anche minacciato di abbandonare il programma. Purtroppo il tronista non ha opposto resistenza lasciandola andare via dallo studio di Uomini e Donne. La reazione social di Federica. La bella Federica si è detta molto rammaricata dalla scelta del tronista al quale lei ha dedicato tutta se stessa. Gli opinionisti di Uomini e Donne lhanno accusata di non aver lottato per conquistare il cuore di Andrea. In sua difesa è intervenuta Maria De Filippi che ha definito sincero il tronista e purtroppo labbandono dello studio era lunica alternativa possibile. Federica Francia, però, ha reagito post-andp sul suo profilo social un messaggio MPLTP chiaro, che smentisce categoricamente ogni tesi di ritorni a Uomini e Donne. Staremo a vedere se nelle prossime settimane Andrea cambierà idea e andrà a cercare Federica e se questa sarà disposta a tornare sui suoi passi. Grazie a tutti!